buonasera dallo stadio alberto picco di la spezia un saluto bianco celeste da parte druidi sinibaldi in campo spezia e lazio via partiti per questo match verde ancora e dal il cross in area traversa traversa dello spezia allora burabia già si ancora in profondità c'è burabia che può andare al cross in area anzola e palla sul fondo e poi cataldi di prima buono il tocco verso immobile area di rigore immobile bloccato drongosca ancora immobile immobile reclama il calcio di rigore lancio verso milinkovic fa la sponda di testa perfetta per felipe anderson che va nell'uno contro l'impadu felipe anderson area di rigore calcio di rigore per la lazio e giallo per ampadu fischia i rati parte ciro immobile per il gol della lazio vantaggio al picco e ritorno il gol di ciro immobile al trentacinquesimo prova a stoppare il pallone ancora milinkovic ampadu si complica la vita ancora milinkovic area di rigore sempre milinkovic per immobile che stocca il pallone per un istante macina gioco ancora la lazio milinkovic immobile di tacco poi occhio a luiz alberto luiz alberto e pallone sul fondo ancora luiz alberto sempre lui poi tocco verso milinkovic zaccagni apre ancora milinkovic drongosca e poi luiz alberto finisce il primo tempo finisce con il risultato di vantaggio della lazio 1 a 0 grazie al rigore di ciro immobile al trentacinquesimo un rigore importantissimo c'è lo scatto di felipe anderson luiz alberto ha visto proprio felipe poi immobile di tacco ancora per felipe anderson sempre in area immobile per luiz alberto felipe anderson bloccato alla fine felipe anderson per il gol bianco celeste del 2 a 0 ma è sempre stato nel vivo del gioco adesso segna pure è 2 a 0 vediamo ancora il pallone centrale verso burabia poi ancora anzolà e dal propetel una parata strepitosa in mezzo al traffico luiz alberto ancora felipe anderson che prova a piazzare il pallone una gran parata di drongoschi lazio vicino al 3 a 0 con felipe anderson occhi anzolà nell'area dello spezia parla proprio verso di lui felipe anderson allontanato e c'è marcos antonio che si butta avanti occhio a marcos antonio che si butta in capo aperto marcos antonio davanti alla porta marcos antonio marcos antonio che gol ha fatto marcos antonio al quarantaquattresimo e 3 a 0 con una cavalcata da centrocampo da favola da favola marcos antonio ma irrati fischia la fine finisce 3 a 0 per la lazio un autentico trionfo su un campo complicatissimo allontanato 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 il Grazie a tutti.